L'auspicio è che il progetto definitivo sia a disposizione dell'amministrazione comunale prima dell'estate. Sono le poche parole del sindaco di Como Alessandro Rapinese che non si sbilancia, inevitabilmente però dopo le comunicazioni di ieri gli occhi sono ancora più puntati sulla riqualificazione della piana di Muggio. Andando per esclusione, considerando i tempi tecnici e che giugno ormai è alle porte, si può ipotizzare che per scoprire i dettagli del piano al momento top secret il mese giusto possa essere luglio. Quel che è noto e che è stato detto ufficialmente è che il Comune ha ricevuto lo scorso 7 maggio un'istanza preliminare finalizzata ad una successiva proposta di partenariato pubblico-privato che ha come oggetto la realizzazione, il finanziamento, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di un nuovo centro natatorio e un nuovo palazzetto dello sport. Per quello che ho visto io posso dire che si tratta di un progetto molto interessante ma siamo in una fase preliminare e non sono autorizzato a divulgare dettagli perché al momento parliamo di un elaborato che non è una proprietà intellettuale del Comune. Pertanto fino a quando non sarà presentato ufficialmente il piano non posso aggiungere di più, dice ancora Rapinese. La proposta che sfiora i 40 milioni di euro arriva da una Energy Service Company un nome di rilevanza nazionale nel campo energetico su cui la riservatezza è massima. Quel che è chiaro e che era stato ribadito anche nei giorni scorsi in diretta su ITV ben prima dell'incontro di ieri in regione Lombardia è che sembra si possa parlare di più piscine e non si esclude che quell'area possa ospitare oltre al palazzport anche una pista del ghiaccio. In attesa di conferme le certezze parlano di un'istanza preliminare che contiene un masterplan progettuale e una stima di investimento complessivo di circa 39 milioni di euro con relativo quadro economico generale in cui si prevede una sostanziale riqualificazione urbanistica dell'area comprensiva di realizzazione degli impianti sportivi parcheggio a raso e ottimizzazione della viabilità. Domani intanto è in programma una sessione di confronto tra soli tecnici comunali e regionali allo scopo di verificare sia la sostenibilità economica del progetto che gli eventuali prossimi passi da compiere. Grazie a tutti.